Caro Marcello, nel 1916 Antonio Gramsci, che era pure un giornalista oltretutto, oltre che un teorico, filosofo e analista politico, scrive che gli operai non possono assolutamente affidarsi ai giornali della classe borghese e tutti i giornali sono essenzialmente giornali della classe borghese perché i giornali borghesi hanno come fine ultimo quello di perpetrare il dominio di classe borghese ai danni del popolo stesso e dei lavoratori. Oggi potremmo dire che mutatis mutandis non sono più i borghesi che gestiscono i giornali, ma sono i signori della finanza che in larga parte dispongono del monopolio dei mezzi di comunicazione, i quali mezzi di comunicazione finiscono dunque sempre da capo per rinsaldare il dominio di classe a detrimento delle masse nazionali popolari, diremmo con Gramsci, dei lavoratori e più in generale dei popoli che subiscono suddetto dominio di classe dell'elite finanziaria. Tu che sei molto addentro a questi temi, come la vedi? Ma ti direi che non esistono più gli operai e mi sa che tra un po' non esisteranno più neanche i borghesi. Esatto, quello sì, i borghesi sono stati annientati. Cosa che tra l'altro i borghesi stessi tendono a non realizzare nell'illusione che quel benessere che è stato creato negli ultimi 50 anni possa essere eterno. Ma al di là di questa disquisizione socio-economica, il problema è che io non credo tanto alla teoria della proprietà che condiziona direttamente i giornali. Io credo piuttosto, e su questo ho basato anche i miei studi, ai condizionamenti impliciti che portano a condizionare tutti i media, anche quelli che magari hanno proprietà che sono neutrali. Perché questo sistema, e in questo secondo me hanno imparato alcuni degli insegnamenti di Gramsci usandoli a loro favore, questo sistema permette di condizionare l'insieme dell'opinione pubblica. Questo sistema consente di delineare che cosa è politicamente corretto, che cosa è moderato, tra virgolette, che cosa non lo è. Per cui tutte le idee che escono da questo sentiero finiscono automaticamente per essere screditate. Questo è il punto fondamentale, cioè chi si propone di fare buon giornalismo deve per forza confrontato con questa necessità, ovvero con la necessità di non emarginarsi, perché quelli che poi la sparano e sono troppo isolati alla fine non hanno alcuna incidenza, ma di aprire, allargare il sentiero e permettere al pubblico pertanto di avere una visione della realtà meno stereotipata, meno, per molti versi, ingannevole. Questo nostro dialogo socratico io convengo a pieno con te, perché effettivamente oggi è in auge quella che io definisco la catechesi permanente del pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto, il quale ha come proprio obiettivo principale l'ortopedizzazione coatta delle masse in senso liberal-libertario, globalitario, io definisco globalitarismo il nuovo totalitarismo della globalizzazione liberal, che è ben più totalitario di tutti quelli precedenti, nei quali se non altro vi erano dissenzienti che poi venivano puniti. Qui invece siamo tutti carcerari che amano, potremmo dire, di essere in catena e pensano di essere liberi in realtà e di tenere in catena negli altri. Ebbene, in questo senso c'è effettivamente una catechesi complessivamente ribadita ogni giorno sui giornali aziendali più o meno grandi. Un tempo si aprivano i giornali e c'erano visioni del mondo differenti a secondo del giornale aperto. Oggi invece vi è la stessa visione, lo stesso taglio. Io lo chiamo lo sguardo dall'alto, perché lo sguardo comunque, per quanto venga diffuso anche da giornali che sono neutri, come dicevi te, comunque sempre comunque ripropone lo sguardo dall'alto, cioè quello a beneficio dell'elita polide finanziaria contro i popoli e così via. Quindi sono pienamente d'accordo con questa tua visione e sostengo più che mai, come anche te, l'esigenza di riprendere una, potremmo dire, un fronte dell'opposizione ragionata, che sia giornalistico, culturale, intellettuale, politico, rispetto ai processi della mondializzazione sradicante del capitale liquido finanziario che si sta sempre più planetarizzando a documento dei popoli, delle classi sia borghesi sia lavoratrici, che in effetti, come dicevi te, stanno sparendo perché vengono sempre più a precipitare verso il basso in un'unica massa che io chiamo il precariato, che è precarizzata sia nelle condizioni lavorative sia nelle condizioni esistenziali, dato che non può più farsi un nucleo familiare, una casa fissa, una cittadinanza stabile. Sono condannati alla precarietà e alla flessibilità che, suddetto pensiero unico, dominante, magnifica come se fossero glamour, cool e condannando in pari tempo invece tutto ciò che riguarda il radicamento dei popoli, la stabilità vetero-borghese liquidata come noiosa e così via. Sì, con un aspetto molto importante. Ieri o l'altro, in questi giorni c'era questa notizia di non so quanti migliaia di persone che sono presentate per un posto di infermiere, 14 mila, 15 mila, una cosa enorme. E allora che cosa sta succedendo? Che sempre più persone si rendono conto delle contraddizioni del sistema in cui noi viviamo. Perché il nostro sistema ci dice se studi, se hai una laurea, se hai un titolo di studio puoi, puoi costruire il tuo cammino. Poi in realtà sappiamo che troppe decine, centinaia di migliaia di giovani non trovano lavoro. Ti dicono l'età della pensione va spostata in avanti, però chi ha più di 50 anni non sta più a passo con l'evoluzione tecnologica diventa obsoleto per le aziende, perde posti di lavoro e non riesce ad arrivare alla pensione. Sono delle contraddizioni molto forti. Che cosa manca all'opinione pubblica? Mancano le chiavi di lettura, manca la capacità di capire queste contraddizioni che in realtà fanno parte di un sistema di sgrettolamento anche sociale e non avendo le chiavi di lettura, perché su questo che ci sia una corrente di pensiero abbastanza univoca nei media è purtroppo vero, la gente finisce per non capire davvero che cosa sta accadendo. Io credo che il compito di intellettuali di qualunque matrice culturale e filosofica, perché la tua matrice non corrisponde certo alla mia, sia quello non di controporsi in maniera sterile come accade spesso nei talk show, ma aiutare la maggior parte delle persone a capire e a rendere vivo, autentico quel magnifico sistema che si chiama democrazia, che però per essere tale deve basarsi su una certa autenticità delle intenzioni e su una certa trasparenza dei meccanismi politici, cosa che oggi viene secondo me a mancare e questo genera questo senso di profondo e molto preoccupante smarimento. Sì, sarebbe anche opportuno un dialogo cooperante fra le diverse aree del sapere, tra le diverse attività dello spirito, di modo che si potesse tornare a far valere una visione d'insieme che è quella che più manca, perché oggi effettivamente manca una visione complessiva che sia alternativa e pensi altrimenti rispetto a quella dominante. Il paradosso è che oggi gli sconfitti della mondializzazione mancano esattamente di una visione che faccia brillare l'idea di una possibilità di essere altrimenti rispetto a come siamo. Quindi la lotta di classe oggi è asimmetrica non solo nei modi, nelle forze della produzione, che evidentemente sono concentratissime nel ristrettissimo polo dominante, ma anche è asimmetrica nelle forze della produzione intellettuale, potremmo dire, nella misura in cui vi è un'elaborazione teorica dominante da parte dell'elite che gestiscono il campo del conflitto, sia reale sia immateriale e simbolico, e invece il polo dominato che subisce in silenzio e non riesce a organizzarsi. Sicché oggi il servo, per dirla con Hegel, dominato, è anche non rappresentato culturalmente e politicamente, manca di un immaginario, è muto, solo e potremmo dire anche ormai in uno stato, praticamente, di afasia completa. Aggiungo, ultima considerazione, il fatto che purtroppo quel che emerge in molti paesi occidentali, i politici che interpretano questo malessere, secondo me, hanno una gravissima lacuna, ovvero non si preparano davvero alla gestione del potere quando riescono a essere eletti. non capiscono, non vanno in profondità nell'analisi, non studiano i meccanismi di come funzionano le istituzioni, gli stati, i rapporti tra le relazioni internazionali e arrivano sull'onda dell'entusiasmo magari a vincere qualche elezione e poi vengono attaccati e subito fermati da quello che si chiama stati profondi, istituzioni, eccetera, che fanno resistenza, vanificando questi processi di trasformazione. Questo è un punto molto importante e sul quale mi meraviglio come costantemente tutti i leader politici di diversi paesi finiscano per cadere e forse su questo anche il ruolo degli intellettuali, quali tu ed io siamo, è anche quello di sensibilizzarli su queste tematiche che sono scomode e che probabilmente gli stessi politici non vogliono sentirsi dire. Grazie.